Questo è 3 per te Fassina, tre auto scelte per voi ogni giorno dal Car Village. Lancia Ypsilon Diva, 1.2 benzina a 69 cavalli, una vettura che va bene anche per i neopatentati, ha fendinebbia, specchi regolabili elettricamente, climatizzatore, radio CD, vernice extra serie, 80.000 km relativo, 6.900 euro. Fiat 500 L Cross, 1.3 multijet, 95 cavalli, la vettura ha soli 23.000 km, cerchi lega, fendinebbia, cruise control, ruota di scorta, smartphone mirroring, sensori parcheggio e clima, il prezzo 23.900 euro. Fiat 500 X Sport, Model Air 2022, 1.6 turbodiesel, 130 cavalli, la vettura è un chilometri zero, ha la Kille S Entry & Go, cerchi lega da 19, fari led, radio, fendinebbia, bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, climatizzatore automatico, cruise control e sensore luci, 29.600 euro. E dal salone del Car Village Fassina per oggi è tutto, ci vediamo domani, stessi canali, stessa ora, preparati.